Io non vi aiuterò. Tu chi sei? Sono chi cercate. Quello che ne è rimasto. Perché non ci vuoi aiutare? Io non... voglio farlo. Spiegati meglio. Noi moriremo. Hai ragione. Perché hai tante cose per cui vivere. Io no. Lei. A cosa serve tutto questo? Te ne stai lontano da Sinmara solo per... attendere qui la morte? Almeno se ti unissi a lei... sareste di nuovo insieme. Noi siamo insieme. Ho il suo cuore. E lei ha il mio. Non è molto... ma è abbastanza. Ma tu non sei nemmeno... Sei mai stato... innamorato? È molto bello. Così Odino vincerà... e tutti i regni tranne Asgard cadranno. Già. Lui deve morire. È vero. Ma io non sacrificherò lei così come tu non sacrificheresti lui. Spiacente. Vieni. Aspettate. Quelle lame. Potrei vederle. Sì, c'è il fuoco primordiale in loro. Non sono di questa terra. Non importa. Sì, può funzionare. Che cosa? Infilale... qui dentro. E io diventerò... il tuo mostro. Ma non voglio che lei sia coinvolta assolutamente. Ma... la profezia dice che voi dovete essere uniti insieme. Sicuro che funzioni? Non ho altro per cui vivere. Non qui. Seguitemi. Dove andiamo? Scintilla del mondo. Ossia... Il luogo dove Nifelaim e Muspelaim si incontrano. Dove nacquero i primi regni. Di qua non riuscite a passare, eh? Surtro? Sanfrey. Meglio che camminare. Che cosa ci attende a questa scintilla del mondo? Magia. Roba primordiale. Con quella, le tue lame e il mio cuore. Andrà tutto bene. Divento... grosso. Spacco tutto. Vi piacerà? Ma che succede quando cambi? Non lo so. Non sarò più me. Ma tu o... il nuovo te... come saprete quando attaccare Asgard? Hai il corpo. Vero? Già. Allora siamo a posto. Ah. Eccola. La scintilla del mondo. Wow. È... bellissimo. Ci vediamo di là. Sembra una scemenza. Odino sa del ghiallo a Rorna. Sa che hai la maschera. Ha ucciso Broca. E sa che avremmo cercato Surtur per iniziare questa guerra. Ma che altra scelta abbiamo? Nessuna... sa anche quello. Ci siamo. E con Silmara? Non dovremmo almeno avvisarla? No. Le farebbe troppo male. Più di non sapere cosa ti è successo. A volte... amare... significa... scegliere... il male minore. Ma non ha alcun senso. Promettete... di starle alla larga. Lo promettiamo. Surtur, pugnalarti con le lame. Sarà sufficiente a creare questo nuovo te. Il cuore di Silmara è freddo. Splendidamente freddo. Ora tuo padre ha il mio fuoco nelle lame. Se in lei entrerà abbastanza di me e della scintilla... allora funzionerà. Ok. Venite. La scintilla è freddo. Surtur, ecco. Alla scintilla è freddo. Alla scintilla è freddo. No, non preoccupi. Alla scintilla è freddo. Rame! Spostati! Questo farà male. Spostati! Adesso... la parte davvero dolorosa. Il mio fuoco... e il suo cuore. Unendoli insieme... avrai Ragnarok. Ci siamo. Quanto pensi che ci vorrà? Valkyrie! Le avrà mandate Udino! Ah! Quello è stato tosto! No! No! Il ginocchio! Il padre di tutti! No! No! Poi! Non! Pagano! Pagano! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allora? Surtur, ci sei? Padre, vieni qui! Surtur, ci aiuti ad attaccare Asgard! Attendo la chiamata. Oh, grande! Hai sentito? Ci basterà chiamarlo con il Gyallaror non appena saremo pronti. Torniamo a Muspelai. Lì potremo usare il passaggio mistico per il ritorno. È andata. Incredibile. Abbiamo Ragnarok dalla nostra parte. Il piano di Surtur ha funzionato. Le Valkyrie sono state un contrattempo, ma scommetto che ora Odino è preoccupato. Sa che lo stiamo cercando. Pensaci. Ci presentiamo ad Asgard e poi arriva Ragnarok e spazza via ogni cosa. Odino non avrà nessuna speranza. Vinceremo noi. Groa aveva ragione. Groa non aveva predetto cosa avremmo sacrificato. Forse vedeva solo le cose importanti. Tutto questo funzionerà, vero? Deve. La forza di Ragnarok cresce. Ehi, guarda quella rupe. Il terremoto è stato così forte da creare una sporgenza. Altre forze di Odino! Vogliono concludere il lavoro delle Valkyrie! A sinistra! A sinistra! Occhio a destra! Occhio a destra! Occhio a destra! Occhio a destra! Ehi, guarda quella rupe. Il terremoto è stato così forte da creare una sporgenza. Altre forze di Odino! Vogliono concludere il lavoro delle Valkyrie! Valkyrie! Fai, Kili! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vogliono concludere il lavoro delle Valkyrie. A destra! A sinistra! Valkyrie! Schiappa! Ehi, guarda quella rupe. Il terremoto è stato così forte da creare una sporgenza. Altre forze di Odino! Vogliono concludere il lavoro delle Valkyrie! Sto provando a prenderti! Dietro di te! Occhio! Sto provando a prenderci! Sto provando a prenderci! Sto provando a prenderci! Schiaffa! Ne arriveranno ancora. Dobbiamo andarcene da qui. Quindi hai combattuto molte guerre, vero? Ma non hai mai avuto un alleato come Ragnarok. Invece sì. E la creatura non garantisce la vittoria. Giusto. Un altro terremoto. Questo posto cadrà a pezzi se ci saranno altre scosse. Un altro terremoto. Un altro terremoto. Un altro terremoto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS A sinistra! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS A sinistra! 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 Come on!